si prepara il pantaleo sciacca Lucio Gabriele Scavuzzo Lucio Gabriele Scavuzzo si prepara la coppia Lombardo e Federico Pavia Lucio Gabriele Scavuzzo si prepara la coppia a seguire abbiamo Galfano e Grini e allora si prepara si prepara adesso Maggio con Trapani Trapani Maggio e andiamo avanti! con Trapani e Basile fuori Trapani Maggio dentro Trapani Basile è arrivato il momento di vedere la coppia Trapani Basile vai Forza, forza veloce! Forza, forza veloce! Solo voi! forza veloce! Forza! 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 l'audicina, vai! E vedremo Francesco Piotto ed Elisa il gileni, abbiamo una ragazza, visto che sta freddo possiamo scaldarci un po' le mani e fare degli applausi continui ai nostri ragazzi, andiamo avanti con Daniele e Arianna, applauso! A seguire vedremo Crimi e Giorgia Ed è arrivato il momento di Tickele Sata e Niccolò Licari Grimi e Giorgia, si prepara, Michele Sata e Niccolò Licari Vai Giorgia, applauso a Giorgia, vai! Giorgia, applauso a Giorgia, vai! Giorgia, applauso a Giorgia e Niccolò Licari E' arrivato il momento di Vistretta e Scarpone Vai ragazzi Vistretta e Scarpone A seguire vedremo Salvatore Caronia e Vito Applauso per i ragazzi Salvatore Caronia e Vito Vai Vistretta e Scarpone Vistretta e Scarpone Vistretta e Scarpone Bebiato! Grazie a tutti. Grazie a tutti.